Buongiorno, buongiorno o buon caffè? Secondo caffè dedicato al tema del coronavirus. Questa volta il punto che vorrei esaminare insieme a voi è la necessità di controllo. E già, perché alla fine quello che è emerso è il bisogno folle di controllo che abbiamo. Dobbiamo avere tutto sotto controllo, tutto deve essere regolamentato, tutto deve essere sicuro. Così le statistiche le esaminiamo solo da questo punto di vista e non da quello che dicono con i numeri. Considerando che comunque la vita comprende la morte e questa morte non è mai giusta. C'è qualcuno per cui abbiamo detto era giusto il momento di morire, ha fatto bene a morire, doveva crepare anzi. Sì può essere ma questo è uno sfogo, questo non è un ragionamento, questa è una cosa che viene dalla pancia e che è frutto di altri sentimenti che non siano collegati banalmente con la ragione. E comunque non hanno mai a che fare con una morte che potremmo definire improvvisa, accidentale, forzata, come può essere quella che deriva da una malattia, qualunque tipo di malattia, fulminante o di lunga degenza. Perché noi non vogliamo morire, ma purtroppo dobbiamo tener conto del fatto che la vita è così. Come dice qualcuno, la vita è quella malattia che porta inevitabilmente alla morte. E siccome noi vogliamo fuggire questo, abbiamo perso il senso della vita e della morte, così come hanno scritto penne meravigliose sul Corriere della Sera in diverse occasioni, spiegandoci proprio alla luce anche di questo fatto, come dovrebbe essere l'occasione per riflettere e ragionare proprio in questo ambito e stiamo perdendo, forse abbiamo perso anche questa occasione, ecco che allora vogliamo che ogni cosa funzioni per il meglio e non ci rendiamo conto, altra situazione tipica di chi vuole mantenere il controllo, di quelli che sono gli effetti collaterali. Perché non c'è nessuna situazione al mondo, nessuna situazione al mondo. E se mi sto sbagliando, vi chiedo aiuto perché mi aiutate a cambiare idea, mi mostriate come questo che sto affermando è falso, non è vero, comprende delle eccezioni e esaminiamo queste eccezioni, nulla, dicevo, esiste al mondo che non presenti effetti collaterali. Quello che si deve cercare di fare è comprendere quali siano gli effetti collaterali che purtroppo, non sempre per la singola persona, ma per la società, per la comunità, hanno l'effetto meno devastante, meno devastante. E noi vorremmo che tutto non avesse mai nessun tipo di effetto negativo, soprattutto per noi. E questo un po' è anche alla base di quella famosa sindrome, not in my backyard, in cui noi vogliamo tutti i benefici, ma non vogliamo le conseguenze di questi benefici. Non siamo pronti a pagarne il prezzo, e di questo abbiamo già parlato. E questa voglia di controllo, spinta a questo livello, alla fine ci dice che abbiamo una pretesa di veramente determinare ogni cosa. Non ci arrendiamo al fatto che c'è qualcosa più grande di noi, chiamatelo come vi pare, che alla fine determina il mondo. Che sia il fato degli antichi greci, che sia la provvidenza, ma c'è qualcosa che è più forte di noi. Finché non accetteremo questa verità, ne sono convinto, non riusciremo neanche a cogliere la bellezza e l'essenza della vita. Ma come sempre apro la discussione, lascio a voi un spunto per riflettere e darmi il vostro parere. Io intanto vi auguro nuovamente buon caffè e vi do appuntamento qui domani per parlare ancora di questo argomento con un altro caffè,